Buongiorno a tutti, siamo qui di buon mattino per parlare di nuove famiglie e popolazioni visibili, un tema che mi pare strettamente legato alla tematica generale di questo festival della statistica che cerca di esplorare, di capire come la misurazione fatta dalla statistica possa adeguarsi alla realtà che cambia. Vedremo questa cosa appunto attraverso la lente delle famiglie e anche dei gruppi sociali, alcuni gruppi sociali che stanno venendo alla luce e anche venendo all'attenzione sempre più delle statistiche. Io sono Luca Cifoni, sono un giornalista del Messaggero, qui con me abbiamo Agnese Vitali che è professoressa associata a demografia all'Università di Trento, Danilo Bolano che è ricercatore senior alla Bucconi di Milano, Esther Lazzari che è ricercatrice all'Università di Vienna e per l'Istat Gerardo Gallo qui vicino a me che è responsabile del servizio censimento permanente della popolazione, in realtà ha un nome più lungo ma io ho dato quello sintetico. Allora famiglia o famiglie, io comincerei da qui nel senso che si parla molto di famiglia in ambito politico, nel dibattito pubblico, quello che forse succede è che non sappiamo esattamente a che cosa ci riferiamo o meglio. Crediamo di saperlo, cioè la parola famiglia ha un'accezione per tutti noi immediata che ci fa pensare a un papà, una mamma e dei bambini che è un'accezione giusta o comunque in senso storico sicuramente ha una sua giustificazione ma forse la realtà è cambiata. Adesso ce lo spiega Agnese. Esatto, buongiorno. Io partirei dalla definizione di famiglia. Allora secondo il glossario statistico Istat una famiglia è un insieme di persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. Ora sostanzialmente questa definizione di famiglia è rimasta quasi immutata, sì ora ci sono le unioni civili, prima non c'erano, però la definizione è rimasta immutata per gli ultimi 70 anni. Però la composizione delle famiglie si è molto profondamente modificata nel corso di questi ultimi 70 anni. Se prendiamo la metà del Novecento come punto di confronto quello era un periodo in cui la famiglia italiana in effetti era rappresentata da genitori, legati dal matrimonio, con figli e questo era uno standard alla famiglia italiana. Invece le persone che costituivano nuclei diversi da questo erano poche. Oggi la situazione è completamente diversa. Il declino della famiglia nucleare, quindi genitori con figli, inizia diciamo negli anni 60-70 del Novecento, ma non in Italia, inizia nei paesi del nord Europa sulla spinta di cambiamenti culturali e economici e poi piano piano si diffonde. Però l'Italia a lungo è rimasta quasi immune a questi cambiamenti nelle strutture familiari. In effetti l'Italia spesso è stata considerata come l'ultimo baluardo della famiglia tradizionale. Quando iniziano a cambiare le cose, dai dati che l'Istat ci fornisce vediamo chiaramente che è dal 2000, dagli anni 2000 e poi un'accelerazione durante gli anni 2010 in cui cominciamo davvero a vedere dei cambiamenti. In cosa? In comportamenti familiari, quindi diminuisce il numero dei matrimoni. Aumenta però invece l'incidenza delle convivenze non matrimoniali. Poi a fronte di un calo costante della natalità di cui abbiamo ampiamente parlato ieri al festival, quindi nel 2022 scendiamo per la prima volta sotto la soglia psicologica delle 400.000 nascite, nel 64 l'anno di picco del baby boom era oltre un milione di nascite, però aumenta fortemente la percentuale di nati fuori dal matrimonio. Si passa da meno di 10% nel 2000 a quasi il 40% oggi. E crescono anche le separazioni, crescono i divorzi, quindi le unioni cominciano a sciogliersi più volte lungo il corso di vita, anche ad età avanzate, dando luogo anche a famiglie ricostituite e a relazioni familiari che diventano sempre più complesse tra i membri di una famiglia. Quindi la famiglia nucleare oggi è solo una delle possibili tipologie familiari in Italia e tra l'altro è una tipologia minoritaria, perché infatti già da qualche anno numericamente la famiglia composta da genitori con figli è superata dalla famiglia monopersonale, quindi ci sono più famiglie composte da una sola persona che famiglie composte da genitori con figli. Inoltre dal 2021 l'Istat non solo fotografa il fenomeno ma che fa anche per la prima volta una previsione delle famiglie italiane e queste previsioni recentemente aggiornate qualche settimana fa ci dicono che tra 20 anni dobbiamo aspettarci che questo trend diventerà ancora più acuto. Quindi se oggi le coppie con figli rappresentano già meno di una su su tre, beh tra vent'anni saranno ancora di meno e saranno sempre di più le famiglie monopersonali. Ma non solo, secondo lo scenario mediano delle previsioni Istat dovrebbero aumentare per effetto delle separazioni anche le famiglie costituite da genitori soli, quindi mamme o papà con figli. Ma si prevede che aumenteranno anche altre tipologie di famiglie, quindi le famiglie magari costituite da due o più nuclei, per esempio genitori con una figlia divorziata e i figli di lei, oppure anche famiglie costituite da persone non legate dentro un nucleo, quindi non legate da una relazione di coppia o da un rapporto di filiazione. E infine aumenteranno anche le coppie senza figli, queste possono essere coppie che hanno avuto figli, i cui figli sono usciti dalla casa dei genitori, sono resi indipendenti, ma ci sono anche le coppie che non hanno mai avuto figli in questo gruppo. Questi sono i principali trend. Sì, sono trend particolari, mi ricordo che questo cambiamento è noto non soltanto alla ricerca sociale e alla ricerca demografica, ma ad esempio due o tre anni fa l'Auditel che rileva appunto come sappiamo la cosa guardiamo in televisione si accorta di questo cambiamento dei nuclei familiari e quindi si è attrezzata per censire una serie di situazioni differenziate anche loro, tra cui ad esempio quella dell'anziano o degli anziani che vivono in casa con un abbadante, che è un'altra tipologia a cui magari potremmo accennare. Questo per dire che è un fenomeno che diventa evidente anche non solo giustamente alla ricerca sociale, ma anche a chi fa ricerca per finalità commerciali e potremmo andare avanti con altri esempi. Però c'è un altro elemento interessante che a fronte di questo, se vogliamo, sfaldamento diciamo dei modelli tradizionali emerge in contemporanea e non in contraddizione una nuova voglia di genitorialità che passa anche per le persone che per svariati motivi fisiologici non riescono ad avere figli e questo è il motivo per cui pure in un panorama legislativo particolare come quello italiano è cresciuto in proporzione, mentre il numero delle nascite assolute negli ultimi, dal 2008 in poi è costantemente diminuito, è invece aumentata una frazione di questo numero, anche se relativamente esigua, che è quello dei nati attraverso diciamo tecniche di procreazione medicalmente assistita. Ed è di questo adesso che ci parla Esther dicendo qual è il panorama attuale anche appunto numerico nel confronto con l'andamento generale della natalità. Allora non soltanto le tipologie familiari stanno cambiando ma negli ultimi vent'anni sono emerse nuove tipologie di famiglie con figli che non erano possibili un po' di tempo fa e adesso stanno diventando sempre più numerose e sono le famiglie formate tramite la procreazione medicalmente assistita o PMA. Per procreazione medicalmente assistita si intendono delle procedure mediche che hanno l'obiettivo di aiutare le coppie che hanno problemi di infertilità ad avere figli e queste procedure comprendono l'uso di farmaci e di interventi come per esempio l'inseminazione artificiale e la fecondazione in vitro. Queste tecnologie sono aumentate molto in Italia e in Europa negli ultimi anni. Per esempio in Italia abbiamo stimato che nel 2022 poco meno del 4% delle nascite è stato concepito tramite procreazione medicalmente assistita e questa percentuale può essere più alta in altri paesi e arrivare fino al 9% in alcuni paesi europei. Quindi in Italia stiamo parlando ancora di una popolazione piccola che tuttavia è in rapida crescita e il motivo di questa crescita il motivo principale è che un numero crescente di individui sta posticipando l'ingresso nella genitorialità e desidera avere figli in età più avanzata e sappiamo che l'età è un fattore fondamentale per determinare la possibilità di avere figli perché dal punto di vista biologico la fertilità diminuisce rapidamente con l'avanzare dell'età. Infatti il contributo della procreazione medicalmente assistita è più alto se guardiamo alle fasce di età più avanzate. Si parla di meno dell'1% nella fascia d'età che va dai 25 ai 29 anni ma arriva fino al 18% se guardiamo a donne di età superiore ai 40 anni. Quindi quasi una gravidanza su 5 in questa fascia d'età è il risultato della procreazione medicalmente assistita, quindi un numero davvero importante. Questo trend di posticipazione delle nascite non è unico al panorama italiano ma è qualcosa che osserviamo davvero in tutti i paesi europei e che non sembra arrestarsi e quindi molto probabilmente vedremo un contributo della procreazione medicalmente assistita alla natalità sempre in crescere nei prossimi anni in Italia e più in generale in Europa. Bene, adesso con Gerardo facciamo un ulteriore passo avanti perché cerchiamo di capire come l'Istat si sta attrezzando di fronte a tutto questo. Quindi questo mondo di famiglie che cambiano come in parte è stato già accennato, come lo vediamo nelle rilevazioni del censimento, nelle altre rilevazioni che fa l'Istat, ma forse c'è anche qualcos'altro, forse ci sono anche al di là dei gruppi familiari delle, chiamiamole popolazioni, ma in generale dei gruppi sociali che finora sfuggivano alla rilevazione e che invece piano piano ci stanno entrando. Ecco, che cosa state facendo? Sì, grazie. Lo sforzo che stiamo facendo col censimento permanente e con l'integrazione delle indagini nel censimento permanente e il registro di popolazione che l'Istat ha costruito nell'ultimo decennio e mira proprio a far emergere in parte attraverso delle variabili, quindi arricchendo il registro di popolazione con informazioni o che esistevano già dal censimento ultimo che è stato universale e ha toccato tutta la popolazione, oppure lavorando su quelle che sono le informazioni del censimento permanente attualmente in corso, si cerca di far emergere dalla realtà attraverso l'approccio dei segnali di vita, i segnali di studio, di lavoro, sottogruppi di popolazione che non sono iscritti in anagrafe, ma che studiando nei pattern di continuità di presenza sul territorio italiano anche attraverso un'analisi longitudinale si vede e queste sottopopolazioni insistono per anni sul territorio italiano e noi le dobbiamo includere nel conteggio di popolazione. Parliamo di 4-500 mila persone prevalentemente straniere che non hanno l'interesse a essere iscritti in anagrafe ma per le quali risultano versamenti di contributi all'Inps per lavoro domestico perché danno un contributo nell'agricoltura. Quindi ti interrompo e poi puoi proseguire. Parliamo non soltanto di una giusta attenzione ma anche di numeri che possono alterare o non alterare, man mano che li integrate, i numeri complessivi, non parliamo di casi particolari. Avviene già dal 2020 quando per esempio in assenza attraverso la pandemia delle indagini per quell'anno noi abbiamo dovuto effettuare il conteggio di popolazione proprio attraverso un approccio nuovo che è questo di rilevare attraverso i 50 archivi che l'Istat gestisce dai diversi ministeri, dai diversi enti, rilevare appunto dei segnali forti di presenza sul territorio e che si esprimano per esempio attraverso il lavoro o attraverso lo studio. E in quell'occasione per esempio abbiamo introdotto, incluso nel conteggio della popolazione residente censita, 250 mila persone. Poi è vero prevalentemente stranieri. Dopodiché l'Istat, il problema dell'Istat quando includiamo questi individui nella popolazione è anche come dire dargli un riferimento territoriale proprio a livello di indirizzo, li dobbiamo collocare non solo in un comune, anche in un indirizzo perché quindi bisogna assegnargli una sezione di censimento, un'abitazione, un edificio ed ecco qui che gli sforzi, la complessità del lavoro aumenta. Però ci stiamo lavorando. Ma al di là di questo, quindi parliamo di ammontari, di stock, di sottogruppi di popolazione che devono essere inclusi nel conteggio, stiamo arricchendo anche le informazioni del registro di popolazione, per esempio incrociando tre variabili molto semplici che sono il luogo di nascita degli individui, pensiamo anche al luogo di nascita estero evidentemente, la cittadinanza precedente per chi è diventato italiano per acquisizione e la cittadinanza attuale. Attraverso queste tre informazioni incrociate possiamo fare emergere dai dati di cui già disponiamo andare oltre la definizione di straniero e quindi contabilizzare sotto popolazioni che fanno riferimento agli immigrati di prima, di seconda generazione, a cittadini italiani dalla nascita o a cittadini naturalizzati e quindi come dire delineare anche il background migratorio di tutte quelle che sono le componenti della popolazione. In fondo l'Italia ha visto nell'arco di un secolo, un secolo e mezzo ha conosciuto diverse esperienze, prima paese di emigrazione per diversi decenni, negli ultimi decenni ormai non sono pochi, è diventato un paese di immigrazione. Poi abbiamo continuamente delle spinte dei più giovani che cercano verso l'estero di affermarsi dal punto di vista anche professionale o semplicemente per cercare di arricchire la formazione, il percorso formativo e ci rimangono per anni. Ecco per esempio stiamo definendo nel corso del 2024 usciranno anche i dati sugli italiani residenti all'estero. Abbiamo le informazioni, non lo facciamo dal 2003, l'ultima informazione che l'Istat aveva diffuso su quest'altra componente di popolazione e che può arricchire lo scenario di quella che è la composizione della popolazione italiana, non solo residente in Italia ma evidentemente anche quella residente all'estero. Esiste poi un altro pezzo di popolazione, veramente gli invisibili, e sono per esempio i senza fissa dimora. Se vogliamo è un sottogruppo molto piccolo ma la sfida dell'Istat su cui adesso stiamo lavorando è quella di rilevare anche questo stock di popolazione. C'è una task force dedicata nel 2024. Come si fa? Si va a cercarli? Perché questi magari non versano all'Inps, non hanno quei segnali di vita di cui... Sì certo, qui l'approccio è completamente diverso. Evidentemente si tratta di uno stock di popolazione. Noi abbiamo già conteggiato quelli che sono iscritti in anagrafe attraverso rilevazioni che facciamo annualmente presso le anagrafi comunali. Cerchiamo di differenziare coloro che sono affidati ai servizi sociali perché anche lì i comuni non hanno sempre informazioni, le anagrafi non hanno sempre informazioni molto chiare che riescono a distinguere un senza tetto da un homeless per capirci, da un senza fissa dimora che evidentemente è senza dimora perché lavora. Pensiamo per esempio ai giostrai, ai circensi, gli artisti da strada che non sono dei senza tetto ma si muovono, non hanno una sede fissa di residenza perché non hanno una sede fissa di lavoro e girano un po' per le città, per i posti. Quindi come vogliamo identificarli senza tetto? Beh per esempio attraverso, partendo da quelle che è il censimento dei dormitori. L'Istat ha il censimento del no profit, realizza ogni anno quello delle istituzioni pubbliche. Quindi riusciamo a comporre una lista dei dormitori e quindi bisogna partire da lì, quello è un pezzo. L'altro pezzo è fare realizzare un'indagine point in time nelle maggiori aree metropolitane. Quindi affidandosi per esempio alle associazioni che lavorano su questo perché distribuiscono i cibi, le bevande di notte, di giorno a queste popolazioni, a questi gruppi di popolazione. Bene, credo che avrete molto da lavorare anche nei prossimi anni. Adesso parliamo di invisibilità in un altro senso a proposito di famiglie che è quello delle famiglie con disabili. Ce ne parla Danilo Bolano e anche qui partirei dal fatto se c'è anche una difficoltà di classificazione. Penso al fatto che per esempio c'è l'invalidità ai fini amministrativi legali nel nostro paese ma ci sono anche tante altre definizioni possibili. Sì certo, la questione della disabilità è estremamente complessa, soprattutto se poi parliamo di famiglie con disabilità, poi ci arriviamo. La questione della definizione di disabilità, perché si è passato negli anni 90, primi anni 2000, una definizione di disabilità puramente medica. Le persone che hanno una certa condizione e quindi erano anche, a parte del termine, facile da contare. Persone che per esempio ricevevano un sostituto di invalidità erano considerate come disabili. L'ONU, l'Organizzazione Mondiale di Sanità, eccetera, hanno invece dagli anni 2000, sono passati una definizione di disabilità più larga, una definizione che loro considerano biosociale, nel senso in cui la persona disabile non è solo la persona che ha un problema fisico, è una persona che ha un problema fisico, che incontra una serie di barriere per arrivare a un livello di funzionalità e per arrivare anche a degli obiettivi personali. è anche un individuo che ha una serie di diritti molto specifici e indicati in maniera molto netta. E quindi se noi andiamo a allargare la definizione di disabilità a non solo le persone che hanno una certa diagnosi specifica, ma più in generale coloro che hanno per una serie di motivazioni biologiche, una serie di barriere da affrontare nella loro vita quotidiana, eccetera, il numero di questi individui cresce e anche la difficoltà di identificare questi individui diventa sempre più rilevante. C'è poi tutta una questione di sottodiagnosi, per esempio. Molti individui non hanno una diagnosi specifica e quindi anche quelli si fronteggiano a delle difficoltà, hanno delle limitazioni alla loro vita quotidiana, però tecnicamente non sono contati come disabili perché non ricevono il sussidio dall'Inps, per fare un esempio molto banale. E dal punto di vista sociologico, dal punto di vista di policy, diventa rilevante identificare anche questi individui che comunque hanno gli stessi tipi di barriere, magari subiscono gli stessi tipi di discriminazioni sul mercato del lavoro, per esempio, degli individui disabili con la definizione tradizionale, classica di disabilità. E comunque stiamo parlando di gruppi di popolazione decisamente non minoritari. I disabili in generale in Italia sono identificati come circa 7 milioni di individui, decisamente non poco. Nella definizione ampia che è... Nella definizione più ampia possibile, l'Istaz sta cercando di andare in quella direzione anche per identificare il meglio possibile questi individui. 7 milioni, se parliamo di bambini, quindi di individui sotto i 16 anni, stiamo parlando di circa un 4%, 400 mila individui. E se quindi poi ritorniamo alla questione delle famiglie, c'è quello che si definisce nella letteratura un moltiplicatore della disabilità. Perché la disabilità, sì, colpisce l'individuo, c'è l'individuo che è rilevante a identificare, ma ha un effetto, quello che poi si definisce un effetto di spillover sulle persone che sono al suo intorno. Ci sono molti studi, maggior parte qualitativi, perché non ci sono tanti dati quantitativi a disposizione, che vedono, non lo so, i fratelli di bambini disabili, che hanno dei percorsi scolastici e lavorativi molto più complessi rispetto a fratelli, scusate il termine, di bambini non disabili. Lo stesso sui genitori, si vedono degli effetti negativi sulla salute mentale, sulla salute fisica, sui comportamenti sociali di queste famiglie. E se noi andiamo a moltiplicare questi 411 mila circa bambini, ragazzi sotto i 16 anni, e consideriamo i genitori, consideriamo i nonni, che sappiamo in Italia avere un ruolo fondamentale nella gestione familiare, arriviamo a una popolazione colpita direttamente o indirettamente della disabilità di oltre 2 milioni di individui, stiamo parlando di, giusto per dare un'idea, 27 volte la popolazione di Treviso, decisamente non stiamo parlando di una piccola popolazione, invisibile nel senso che sono difficilmente raggiungibili, difficilmente calcolabili nelle statistiche ufficiali, per una serie di motivi, certo non per colpa dell'Istat, ma questa è una tematica ben più larga rispetto a quella nazionale, che però sono rilevanti da un punto di vista di politica sociale, sono rilevanti dal punto di vista di statistica nazionale. Bene, allora adesso facciamo un secondo giro e cerchiamo, fin qui abbiamo forse descritto quella che è la situazione, adesso cerchiamo di guardare un pochino avanti e capire quali sono le sfide che attendono chi fa statistica, chi fa ricerca sociale, ma direi io anche in funzione di chi invece dovrebbe fare politiche pubbliche e forse potrebbe anche, diciamo, utilmente sfruttare questi approfondimenti che sono in corso. Quindi ripartirei da Agnese per dire, stante che la famiglia non è quella che ci aspettavamo, nonostante che la famiglia statisticamente più rilevante in questo momento, per quanto ci sembri strano sentirlo, è quella formata da una sola persona, guardando avanti che cosa possiamo da una parte immaginare e dall'altra attrezzarci per misurarlo. Certo, allora, per quanto riguarda le famiglie monopersonali, queste sono composte prevalentemente da persone anziane e quindi si pone la sfida dell'invecchiamento. Ora, non vi racconterò di queste sfide perché sono così importanti che il Festival Statisticola gli ha dedicato, insomma, il tema dello scorso Statisticola era proprio quello, quindi chi vuole può rivedersi i talk dell'anno scorso sul sito. Io vi parlo invece magari più delle famiglie più giovani adesso e delle sfide che affrontano queste. Allora, diciamo, dobbiamo fare una distinzione, penso che la sfida più grande sia quella della genitorialità, però dobbiamo fare una distinzione perché magari cresce il desiderio di non avere figli, è anche questo in crescita. Quindi chiaramente su questo fronte child free registriamo che magari è più prevalente rispetto al passato e va bene, però invece cresce anche la quota di coppie che non hanno figli per vari motivi, per varie barriere di varie origini e lì invece noi dobbiamo focalizzarci perché se esistono delle barriere allora dobbiamo identificarle perché alcune di queste barriere potrebbero essere rimosse informando adeguatamente le politiche pubbliche. Quindi è davvero importante capire se c'è un desiderio di genitorialità oppure no. Lo dicevi già prima tu, ci sono delle tipologie di famiglie in cui il desiderio di genitorialità per alcune persone è molto forte. Allora, vediamo di spacchettare un po' quali sono queste famiglie. Si parlava dell'aumento dell'età al primo figlio e in Italia questa età è la più alta in Europa, quasi 32 anni in media, ma chiaramente per le donne, per le mame, ma per le donne con un livello di istruzione più elevato beh, siamo più vicini magari ai 35 che non ai 32. Però questo ritardo nell'età media al primo figlio porta anche all'emergere di un nuovo modello di coppia eterosessuale. La coppia in cui almeno uno dei due potenziali genitori è in età genitoriale avanzata perché come ci diceva giustamente Esther c'è una relazione molto forte tra età e fecondabilità. All'aumentare dell'età è più difficile concepire di fare un figlio e quindi emerge anche questa coppia eterosessuale, quindi potenzialmente nucleare, però senza figli. Quindi possiamo vedere i dati della PMA e vedere che una su cinque delle gravidanze, dei parti, delle gravidanze tra le donne oltre 40 anni sono legate alla PMA, però dobbiamo anche pensare a quante sono quelle donne, quelle coppie che potenzialmente vorrebbero avere un figlio ma la PMA non ha un esito positivo. E a questo fino ci sono utili le indagini statistiche. Per esempio nell'indagine famiglie e soggetti sociali possiamo guardare alle famiglie, alle coppie eterosessuali in cui almeno uno dei due partner è in questa età genitoriale avanzata, quindi per le donne oltre i 35 anni, per gli uomini oltre i 40 anni e vedere qual è la percentuale di questi rispondenti che avrebbero intenzione di avere un figlio nei prossimi tre anni. E quando facciamo questo esercizio vediamo che per le donne tra i 35 e i 39 anni due su tre hanno intenzione di avere un figlio nel breve periodo e per le donne tra i 40 e i 44 anni questo dato diminuisce ma rimane comunque quasi vicino a una su due 45, oltre il 45%. Diminuisce molto dopo i 45 anni ovviamente ma c'è comunque sempre un 7% di donne che avrebbe intenzione di avere un altro figlio e lo stesso vediamo per gli uomini numeri un po' diversi ma comunque l'ultimo è quello. Quindi effettivamente in potenza c'è una base molto più ampia di coppie che potrebbero avere desiderio di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita perché chiaramente sappiamo che a quest'età magari questo desiderio non si concretizza con questa grande facilità. E poi c'è un'altra tipologia di coppia che emerge allo scoperto la coppia dello stesso sesso. Qui non abbiamo ancora dati molto affidabili ma magari Gerardo poi ci aggiorna con delle notizie. Però possiamo andare a vedere i dati delle unioni civili. Dal secondo semestre del 2016 quando sono entrate in vigore sono state celebrate circa 15.500 unioni civili fino al 2021. I dati più recenti non ce li ho. Non sappiamo quante sono le coppie dello stesso sesso che convivono. Ancora. e non sappiamo quante sono le coppie dello stesso sesso con minori. Queste coppie, queste coppie diciamo sono invisibili per legge le abbiamo definite nel rapporto sulla popolazione scritto dall'Associazione Italiana Studi di Popolazione. Invisibili per legge perché effettivamente nella legge Cirinna che nella cosiddetta legge Cirinna che istituisce le unioni civili non si nomina il termine famiglia e i diritti di figliazione non sono previsti. Però diciamo questi ostacoli giuridici possono essere superati e infatti esistono le coppie dello stesso sesso con figli. Per ora non abbiamo dati ufficiali abbiamo delle indagini non rappresentative quindi per esempio l'indagine europea FRA del 2019 promossa dall'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali dice che in Italia su un campione di quasi 4.000 coppie dello stesso sesso il 7% di donne ha figli e il 4% di uomini ha figli. Possiamo poi magari guardare alle opinioni degli italiani sull'omogenitorialità. Non ci stupisce che nel confronto europeo la percentuale di italiani che sono d'accordo per esempio che le coppie omosessuali sono bravi genitori tanto quanto le altre coppie sia molto più bassa rispetto alla percentuale che vediamo in media in Europa. Quindi è d'accordo con questa affermazione che vi ho letto il 29% degli italiani questi sono dati della World Value Survey in Spagna un paese simile all'Italia se vogliamo per molti aspetti l'Italia è 29% in Spagna è 60% d'accordo con l'affermazione. Però queste percentuali nel tempo aumentano quindi per esempio la percentuale di italiani d'accordo, fortemente d'accordo sul fatto che le coppie dello stesso sesso debbano avere il diritto all'adozione era pari a circa il 14% nel 93 questi sono dati Eurobarometro però sale dati European Social Survey a 23% nel 2016 27% nel 2018 e pochi anni dopo nel 2020 addirittura 36% quindi siamo indietro alla media europea però i cambiamenti sono velocissimi anche anche su questo Bene adesso io con con Esther Lazzar ritornerei un attimo su un aspetto diciamo delle cose che ha detto Agnese che è ancora quello della della PMA per capire se in che misura questo fenomeno è destinato a crescere ancora io vedo due aspetti da analizzare uno è quello dei costi cioè chiaramente normalmente sono procedure piuttosto costose e fino adesso ma credo che ci sia qualche novità quindi di conseguenza sono state riservate a chi poteva permetterselo dall'altra è il quadro legislativo come è noto la legge 40 in Italia sebbene in parte poi corretta da una serie di sentenze è più restrittiva di quella diciamo delle legislazioni di altri paesi quindi vorrei sapere come influiscono questi due elementi e soprattutto in chiave futura cosa ci possiamo aspettare sì sicuramente è un fattore importante che riguarda la procreazione medicalmente assistita il costo dei trattamenti e il livello di copertura finanziaria del sistema sanitario ovviamente se questi costi non sono coperti dai servizi sanitari pubblici soltanto le coppie con redditi più elevati avranno la possibilità di utilizzarle si tratta solitamente di persone con livelli di istruzione più alta che quindi hanno una capacità di reddito maggiore e in effetti in Europa vediamo che i paesi nei quali la copertura sanitaria è più ampia più generosa sono anche quei paesi che registrano un contributo della procreazione medicalmente assistita alla natalità più alto in Italia i costi sono al giorno d'oggi abbastanza elevati ma sembra che da gennaio del 2024 sarà introdotto un sistema di ticket che dovrebbe abbassare notevolmente i costi e questo significa che molto probabilmente vedremo un aumento molto più marcato del contributo della PMA in Italia nei prossimi anni scusa ti interrompo soltanto un momento per notare che un aspetto cioè i due aspetti che ho menzionato forse si connettono perché c'è anche ci sono anche molti italiani che vanno all'estero per fare la PMA per una serie di motivi e naturalmente andare all'estero a dei costi maggiori che in Italia giusto? esatto sì i motivi sono il costo ma penso principalmente il tema legislativo che appunto è il secondo aspetto che menzionavi prima in Italia la PMA è possibile soltanto per le coppie eterosessuali con problemi di infertilità ma per esempio in altri paesi europei è aperta anche alle coppie omosessuali e ai genitori single quindi persone che non hanno una diagnosi di infertilità ma semplicemente vogliono avere un figlio senza avere un partner e l'aspetto legislativo ovviamente ha anche un'influenza sull'impatto della procreazione medicalmente assistita sulla natalità per quanto riguarda i costi è importante notare che il livello di copertura finanziaria può quindi influire sul profilo socio-economico delle famiglie che sono formate con la procreazione medicalmente assistita e una copertura più ampia può portare a una distribuzione più equa di queste opportunità tra le varie classi sociali e forse anche più giusta è interessante questa cosa cioè stiamo dicendo che questo diciamo sotto insieme delle famiglie che però piccolo ma non piccolissimo al momento è anche socialmente e diciamo dal punto di vista del reddito caratterizzato da questa diciamo preselezione che c'è stata che c'è stata in partenza sì esatto in parte è dovuto al fatto che persone con educazione più elevata tendono a posticipare la prima nascita di più e quindi hanno più bisogno di questi trattamenti però una parte è dovuta al fatto che hanno anche più possibilità economiche di accedere se affrontano problemi di infertilità bene credo ci siano diciamo delle sfide anche di tipo legislativo anche nel campo diciamo quando parliamo di disabilità ci sono varie legislazioni adesso abbiamo un ministero che è anche sebbene senza portafogli come sono tutti questi ministeri che però diciamo ha come nome come missione quello di occuparsi della disabilità ci sono anche delle legislazioni che sono entrate in vigore altre sono allo studio quindi ecco da questo punto di vista per questo mondo quali sono le sfide sì in questo momento almeno il ministero la ministra della disabilità sembra molto attiva e sembra anche cogliere la difficoltà legata al tema della disabilità che appunto non è solo la questione di contare le teste che è sicuramente rilevante non è solo la questione di quali sono le sfide per le persone disabili ma anche ritornando alla questione delle famiglie le sfide delle famiglie che vivono con una persona disabile che sia adulto che sia bambino perché gli studi sociali hanno dimostrato che queste famiglie devono mettere in pratica una serie di sfide di barriere che devono fronteggiare mettono in pratica una serie di strategie per sormontare persone che si spostano da un territorio all'altro perché magari è più vicino alla persona disabile immagino soprattutto un disabile adulto un disabile anziano quindi questo ritorno delle persone che siano magari spostate durante 30-40 anni che rientrano nei territori di origine perché c'è un genitore malato e c'è un genitore di cui si devono prendere cura e questo ha un effetto diretto sul mercato del lavoro ha un effetto diretto sulla vita personale di questi individui se ritorniamo all'idea delle famiglie con bambini disabili per esempio quello che stiamo osservando ora in uno studio che stiamo conducendo è che sulle barriere di accesso ai servizi quello che vediamo è che se noi immaginiamo due tipologie grandi tipologie di servizi il servizio tre scolastico sanitario e quello ricreativo perché ricordiamo che c'è uno sportivo ricreativo e qua ritorniamo anche a una questione di differenze di genere e di status socio-economico grazie a un sistema sanitario pubblico queste famiglie anche quelle che vengono da un livello economico basso riescono ad accedere ai servizi di cui hanno bisogno per questi bambini dal punto di vista sanitario la scuola in grandissima parte riesce a prendersi cura dei bambini con disabilità con tutti le attività e l'insegnante di sostegno eccetera ma poi c'è anche tutto un aspetto che è anche lì qui un po' invisibile della socialità e dell'elemento sportivo che ha figli sa bene che c'è tutto un'area di attività che i bambini devono fare perché è propedeutico alla loro crescita come individui che diventa completamente bloccato per questi bambini con disabilità perché i servizi qualche servizio c'è ma sono estremamente costosi quelle famiglie cosa ci raccontano è che loro queste attività viene tagliato completamente dalla loro vita quotidiana perché costano troppo io non posso portare mio figlio a fare sport perché gli sport specifici per bambini con disabilità costano molto di più non posso portarlo a calcetto dove ci sono 30 bambini e che magari il semestre è abbordabile quindi sembrano dei dettagli ma sono dei dettagli che per una popolazione ancora una volta piccola ma non più piccolissima diventano rilevanti da un punto di vista di policy parliamo della disabilità ma questo stesso discorso vale per tantissimi altri aspetti della vita delle famiglie italiane quindi le sfide ci sono e sono enormi quello che l'Istat sta facendo per esempio sul conteggio delle persone è molto rilevante anche dal punto di vista di policy c'è un registro della disabilità che l'Istat sta cercando di sviluppare in questi anni in cui integra i dati dell'Inps i dati delle scuole i dati del ministerio i dati delle indagini censuali e delle indagini che vengono svolte ogni 2, 3, 5 anni in Italia per cercare appunto di identificare queste famiglie anche di collocarle geograficamente questo è un altro aspetto molto rilevante abitare in città è molto diverso che abitare in territori rurali magari del centro Italia o nelle Alpi quindi anche questo aspetto è un aspetto rilevante di policy che sembrerebbe stiamo andando in quella direzione vediamo cosa succederà nei prossimi anni bene adesso tornando a Gerardo quindi ci può dire l'Istat ha fatto tanto per diciamo per aggiornarsi e aggiornare gli italiani e i decisori politici su quello che succede nella nostra società forse ci sono altre cose che nel futuro si possono intravedere ma forse c'è anche da rispondere a quello che diceva Agnese è quello che state facendo circa il censimento delle famiglie formate da persone dello stesso sesso oltre a quanto risulta diciamo dalle unioni civili e poi guardando avanti quali altre sfide vedi il discorso di Agnese perché effettivamente le rilevazioni statistiche comunque hanno una base di riferimento dal punto di vista come dire legale per esempio le rilevazioni del censimento permanente sono e i quesiti che vengono introdotti nelle rilevazioni del censimento permanente fanno riferimento ai regolamenti europei e i regolamenti europei come dire pongono delle variabili core che tutti gli stati membri devono rilevare nel proprio paese per esempio attualmente non c'è nessuna non è richiesta come variabile core una identificazione diversa rispetto a maschi e femmine per quanto riguarda il genere altri paesi spontaneamente come il Canada su questo per esempio è da anni che nei censimenti chiede altro oltre a maschi e femmine Eurostat invece chiede di specificare in un incrocio a tutti i paesi membri quanti sono quali sono le coppie dello stesso sesso con e senza figli solo questo e noi quindi la produzione censuaria in qualche modo è orientata dall'ordenamento giuridico internazionale in questo caso regolamenti europei oppure dal regolamento anagrafico per quanto riguarda prima all'inizio del talk Agnese citava la definizione di famiglia quindi effettivamente un rispondente quando si ritrova il questionario ovviamente è molto attento a come vengono formulate le domande i quesiti per esempio adesso in corso la rilevazione noi abbiamo il nostro la nostra casella postale che viene riempita dalle persone che non riescono a collocarsi in maschio o femmine ma io dove mi devo collocare perché non sono maschio o non sono femmina quindi ecco che effettivamente ci sono c'è un ordinamento giuridico che deve come dire adeguarsi alla nuova realtà alla realtà attuale e ovviamente l'istituto gli istituti di statistica a livello internazionale cercano di trovare il compromesso una via di mezzo per cercare di come dire di non alterare quello che è il livello culturale dei rispondenti qualcun altro cerca di gettare il cuore oltre al sacro di andare avanti quindi effettivamente la sfida le sfide sono queste in questo momento bene allora abbiamo fatto una panoramica abbastanza completa siamo anche quasi in orario io non posso diciamo che rinnovare l'auspicio che in qualche modo veniva fatto all'inizio cioè c'è un grande lavoro che viene fatto sia dal mondo diciamo della ricerca dell'accademia ma anche dalla stessa istat come abbiamo visto c'è uno sforzo di stare al passo con i tempi io penso che ci dobbiamo augurare che anche i decisori politici che naturalmente rispondono ad altre logiche che sono quelle della democrazia anche del consenso elettorale eccetera però si possono avvalere di questo lavoro che viene fatto abbiamo parlato di quello che sta succedendo con la disabilità ma insomma ci sono tanti altri aspetti che abbiamo toccato questa mattina che diciamo si prestano a diciamo a una decisione politica che usi i dati quando esistono visto che di dati si cerca di produrne sempre di più quindi non mi resta che ringraziare volevo anche ricordare che questo talk che abbiamo visto che appunto si è occupato di famiglie e di popolazioni invisibili è stato organizzato insieme all'associazione italiana per studi della popolazione e che diciamo lo scorso anno ha prodotto un rapporto che è stato presentato qui ma quando è stato presentato non era ancora ufficialmente uscito poi è uscito nelle settimane successive e qui ce n'è qualche copia per cui se qualcuno fosse interessato ne trovo qualche copia qui e alcuni dei temi che sono stati trattati stamattina sono affrontati lì più ampiamente grazie a tutti grazie grazie a tutti